Scatta l'allarme rosso per Civitavecchia e per il comprensorio sul fronte Covid-19. L'aumento dei casi, che si registra in tutta Italia, arriva sul nostro territorio. Sono 58 i casi positivi per Civitavecchia nelle ultime 24 ore, 17 dei quali recuperi dei giorni scorsi annunciati nel consueto report dell'Asel Roma 4 e della Regione Lazio, insieme a 11 guariti, che attenuano solo parzialmente una situazione che va complicandosi. Sono 263 gli attuali contagiati sul territorio di Civitavecchia, 111 a Santa Marinella, 30 a Tolfa e 10 a Dallumiere, senza considerare i 223 di Cerveteri e i 259 di Ladispoli. Numeri che impressionano e che avevamo visto nel corso delle precedenti ondate risultano meno gravi dal punto di vista dei decessi e della propagazione del virus grazie all'effetto dei vaccini. Entrando nello specifico dei numeri, si vede come il coronavirus si è entrato nell'RSA del comprensorio Sono 5 i positivi attuali a Madonna del Rosario, dove sono stati effettuati nuovi tamponi e si è in attesa di conoscerne i risultati. Ma quella di Via Buonarroti non è l'unica residenza per anziani nella quale il virus ha sfondato. A Quinta Stelle a Tolfa sono 11 i contagiati, 9 pazienti e 2 operatori sanitari. Al Santo Volto di Santa Marinella ci sono 3 contagiati tra i sanitari e domani si ripeteranno i test. Nell'RSA Santa Marinella va ancora peggio, con 19 positivi, mentre nella vicina Oasi Tabor non si è ancora contezza della situazione perché si è in attesa del riscontro dei tamponi. Intanto è arrivata l'attesa richiesta da parte della Regione Lazio all'Asla Roma 4 per l'apertura del reparto Covid all'ospedale cittadino. In queste ore sono in corso le manovre per aprire il reparto riservato ai positivi con sintomi lievi, quindi che non necessitano della terapia intensiva nel reparto di medicina del nosocomio cittadino. Ormai siamo rodati su questi meccanismi, spiega il direttore sanitario del polo ospedaliero Civitavecchia Bracciano, Antonio Carbone, e quindi ci stiamo muovendo per predisporre nuovamente il reparto Covid, come già fatto nelle precedenti ondate. Gli ospedali di Roma non riescono più a ricevere positivi, per cui è necessaria la nostra collaborazione. Fortunatamente abbiamo una grossa arma dalla nostra parte, il vaccino. Come spiegato dallo stesso Carbone, il reparto Covid a medicina, che dovrebbe contare inizialmente 10 posti letto, sarà pronto prima di Natale nella piastra del San Paolo se ci sono già positivi in attesa.